Benvenuto! La Floricoltura con Flor da decenni nel settore offre servizi specializzati di progettazione, realizzazione e gestione di terrazzi, parchi, giardini pubblici, privati e condominali. Eseguiamo abbattimenti e potature di altifussi con piattaforma aerea e trick climbing, formazione, cura e rigenerazione di tappeti erbosi, impianti di irrigazione e smaltimento di scarti vegetali. Presso la nostra sede troverai un vasto assortimento di piante ornamentali da interno ed esterno. Grazie al nostro personale esperto e qualificato avrai sempre il consiglio e il prodotto giusto. Siamo a Varese, vieni a trovarci, trovi tutti i recapiti nell'area dove siamo. Cornflor, l'angolo della passione per il verde.